Ragazzi io ci provo, o vi rasserenate vedendo un po' di mare oppure vi incazzate ancora di più per la fumata grigia insomma che si permette con le fumate grigie di essere al mare. Io vi dico come la penso, sono una ventina di giorni che leggiamo tranquilli fiducia, tranquilli fiducia, tranquilli fiducia e la trattativa è andata certamente avanti però non è arrivata l'epilogo finale. Adesso invece che magari si inizia a scrivere trattativa in salita, trattativa più difficile, vuoi vedere che magari si sblocca. Non è la questione di 30 più 2 o 35, per carità voi mi direte una volta che si è arrivato a 30 più 2 arrivi a 35, però i numeri non è che sono qualcosa su cui possiamo fare retorica, possiamo fare emotività. 30 più 2 sono già tante, sono veramente tante, sono una cifra che probabilmente è fra le top della storia di mercato del Bruges, con tutto rispetto per il Bruges. Per cui io dico, per carità, adesso voi mi inonderete di messaggi, ma se abbiamo fatto 30 più 2 non possiamo fare 35, anche il Bruges nei confronti del ragazzo e del suo agente potrebbe da 35 fare 33, trovarsi a 32 e mezzo. Non mi spaventano, io ne parlerò anche domani mattina nel mio editoriale su milanews.it, non mi spaventano le ultime fasi delle trattative, perché sono abbastanza abituato alle nostre trattative, che proprio quando le cifre sono vicine, le due sponde sembrano vicine, le discussioni invece sono quelle più importanti, sono i tempi e ci sono dei tempi che si allungano. Ho visto l'anno scorso su Tonali, ne parlerò domani mattina su Milaniews, Tonali ci abbiamo messo un mese e mezzo, alla fine l'abbiamo fatto con grande soddisfazione. De Keteler ci siamo sopra, oggi è il 22 di luglio, ci siamo sopra più o meno dalla metà del tempo, perché è chiaro che nel mese di giugno erano altre le priorità, per carità ci fosse stata l'opportunità a giugno di prendere De Keteler, a 20 milioni l'avremmo preso, ma siccome questa è una trattativa complessa, delicata e non a caso Maldini e Massara sono andati a Bruxelles per provare a guardarla negli occhi bene dal vivo, stabilendo anche un contatto non soltanto di Peck con il Bruges, appunto quel viaggio ne è la dimostrazione. Oh ragazzi, ci sarà sempre la possibilità, dovesse svanire l'opzione De Keteler, credo che sabato e domenica siano un po' i giorni della gente, la gente che proverà a forzare il Bruges, per come capisco e come conosco il Bruges mi sembra abbastanza muro di gomma, così da sensazione da lontano e non conosco il Bruges, ma da sensazione da lontano mi sembra abbastanza muro di gomma, per cui l'opzione più importante, più coerente con la linea delle operazioni che ha fatto il Minan in questi ultimi anni è quella di Charles de Keteler, non dovesse esserci la possibilità di colmare una distanza che non sembra incolmabile, si farà di necessità virtù anche sul mercato, ci si inventerà qualcosa anche sul mercato di nuovo e di alternativo, esattamente come fa Stefano Pioli sul campo, Stefano Pioli sul campo quando manca un giocatore o più giocatori non si piange addosso e trova sempre una soluzione, siccome il Minan è un tutt'uno, anche Paolo Maldini e Ricchi Massara eventualmente dovesse tramontare definitivamente la pista de Keteler non si piangeranno addosso e troveranno una soluzione. Per i tifosi del Milan il mercato non è fonte di ansia o di psicodrammi, ma è quello che è sempre stato, con qualsiasi proprietà del club il mercato è sempre stata la ricerca da parte del tifoso rossonero della prova d'amore e quindi vuoi bene alla squadra, la fai crescere, la fai migliorare, fai sforzi, fai investimenti, quindi vuoi bene anche a me e quindi io faccio le code davanti al Milan Store, faccio le code davanti al bistro, davanti al museo, davanti ai botteghini dei biglietti, la campagna abbonamenti eccetera eccetera, cioè noi siamo dentro un circolo virtuoso e dobbiamo fare di tutto per rimanere dentro questo circolo virtuoso, che la nostra tifoseria meriti un Milan più forte la prossima stagione di quello che ha appena vinto lo Scudetto è fuori discussione, la tifoseria è stata eccezionale, la tifoseria è stata enorme ed è giusto fare di tutto per far conciliare, per contemperare i numeri delle trattative che sono una realtà ostica, una realtà difficile per il cuore del tifoso, me ne rendo perfettamente conto, così come mi rendo perfettamente conto del fatto che un minuto dopo essersi incazzato per aver letto della fumata grigia per De Keteler, il tifoso del Milan torna a gustarsi i filmati dello Scudetto e la vittoria dello Scudetto. Certo, nel grande calcio nel Milan è bellissimo e importantissimo godersi lo Scudetto, però poi un attimo dopo essersi bevuti le immagini di Reggio Emilia, della Talanta, della Fiorentina, della Fatal Verona del 2022 che non è stata tanto fatta per noi, poi un minuto dopo il tifoso del Milan si chiede, sì va bene, bellissimo, fantastico, meraviglioso, emozionante, ma domani mattina cosa succede? E quindi queste sono un po' le ore che stiamo vivendo. Da qui al giorno dell'inizio del campionato manca un numero di giorni che non è ansiogeno, psicodrammatico, ma che non è più quello del 30 giugno, non è più quello del primo luglio, ci sono evidentemente 22 giorni in meno rispetto all'Udinese, poi per carità abbiamo visto a Colonia che Stefano Pioli con la squadra che ha in questo momento ci fa. Ho negli occhi ancora l'immagine meravigliosa, anche se si tratta di una partitella d'allenamento dell'assist di Ben Nassere del gol di Leao in allenamento. Ecco adesso Suma viene a parlarci degli allenamenti per indorarci la pillola di De Keteler. Ragazzi non devo indorare nessuna pillola, però quella giocata resta. Non devo indorare nessuna pillola perché oggi ho compulsato lo smartphone tutto il giorno come voi in attesa della fumata bianca. Però ripeto, ragazzi ci hanno detto tutti per settimane, tranquilli si fa, tranquilli si fa, tranquilli si fa e non si è fatta. Magari si fa adesso in due, tre, quattro giorni dove ci dicono che non si fa, perché il calcio mercato è anche un po' il calcio. Io non lo so come andrà a finire questa vicenda. E so benissimo che quando Paolo Maldini arriva all'aeroporto dei voli privati di rientro da Bruxelles e dice crederci sempre, io avevo capito che non si riferiva direttamente all'operazione De Keteler. È una cosa che Paolo, ricordo la prima volta l'aveva detta dopo un incontro con la Fiorentina per vere tu. Ci crediamo? Beh quello fiducia? Beh quello sempre. Per Paolo Maldini la fiducia nel calcio, nel calcio mercato, nelle cose che si fanno c'è sempre, quindi nessuno del Milan aveva o agitato fanfare o aveva lasciato credere chissà cosa. Fiducia sempre è un mantra di quest'area tecnica, di Paolo Maldini in particolare dopo ogni tipo di incontro. Adesso non resta che attendere, vedremo se il Bruxelles di fronte anche alla voglia del ragazzo ormai di andare, anche l'allenatore e i suoi compagni di squadra oggi hanno rilasciato le dichiarazioni, fan capire che il ragazzo è lì mezzo e mezzo e non vede l'ora di venire. Ragazzi spero che tutte le parti in causa, esattamente come l'anno scorso per Tonani, spero che tutte le parti in causa, il giocatore, il Milan, il Bruges facciano un passo per arrivare al lieto fine. Se così non fosse mi dispiacerebbe molto, ci dispiacerebbe molto, ma la vita continuerebbe e ci inventeremo un altro modo di fare il mercato esattamente come Stefano Pioli sul campo si inventa sempre, un modo per fare la squadra. Ciao a tutti ragazzi!